Dio ci ha creato, ha formato ogni cosa che esiste da nulla, col suo spirito per mezzo della sua parola. Egli ci ha voluto, ci ha preferito alla non esistenza. Quanto importante dunque avere consapevolezza del fatto che siamo frutto di un disegno d'amore, desiderato, pensato e voluto. Quando scopriamo queste meravigliose verità, quando per mezzo di Cristo noi nasciamo dall'alto per lo spirito, non possiamo più vivere come prima, tutto cambia. Desideriamo quindi d'orinnanzi di cuore seguirlo perché Egli ci ha creato, per mezzo di Cristo ci ha salvato, ed è sempre per mezzo di Lui che incontriamo il volto amorevole del Padre. Senza Cristo infatti non si può conoscere personalmente Dio, il quale in vista del Regno fa nuove tutte le cose. E in accordo con l'Apostolo Giovanni esclamiamo, noi amiamo perché Egli ci ha amati per primo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.